il tempo non è dei migliori ma i salva la pezza partono per una nuova giornata musicale vedete sta piovendo il terci cristalli in azione e qui il nostro autista nonché il capogruppo Ugo venuti alla guida la giornata sarà lo stesso magica vero Ugo? la serata sarà magica perché la cultura non si ferma davanti al niente neanche il maltempo ci può fermare e con questo spot pubblicitario davvero interessante e molto importante per questi giorni in questi tempi moderni andiamo avanti andiamo a prendere il fisso armonicista a tra poco francesco vinci eccolo e il nostro uomo l'ordinetto piove piove sconcetto anche oggi qui maestro come sarà la serata bagnata bagnata una serata bagnata meno male che siamo al coperto così non ci bagneremo a meno i capelli va bene comunque serata bagnata serata fortunata giusto Ugo? giusto concetto fargli la ripresa al nostro faccio batti le mani batti le mani ne sentiremo delle belle questa sera ciao ciao siamo nella mostra del castello il posto dove ci esibiremo pieno di fucili chi si dovrà ammazzare oggi non lo sappiamo in attesa dell'arrivo del nostro cantante gasperone che dovrebbe arrivare da un momento all'altro aspettate è già qui buonasera è proprio lui è proprio lui come va gasperone? è tutto bene sopra adesso ero giù a sud e sono salito qua che si è tutto a posto tutto ok? tutto a posto tutto bene siamo pronti per questa nuova avventura mi scusi mi scusi a lei scusi sto parlando sto parlando c'è il tenente che la chiama scusi ah scusi un attimo quando sono salito la chiama non lo vado 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 come vedi la situazione di oggi come la vedi? beh ma la vedo a quanto... oh quanti armi che ci sono la giornata sarà come il tempo o sarà migliore? no penso la sala sarà migliore perchè una superstar come me quando non ho potuto parcheggiare qua perchè c'erano tante macchine che tutte quindi oggi tutto è esaurito si si tutti è esaurito come a noi tutto è esaurito si vieni 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 benissimo lei come? tutto a posto? io tutto a posto adesso andiamo a preparare i microfoni per il sound check ah ma è venuto? è venuto check no c'è solo il sound c'è solo sound e il check quando viene? lo cercheremo lo cercheremo allora noi proviamo il sound quando viene check lo cerchiamo lo cercheremo va bene ci vediamo dopo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo